Ciao a tutti, buongiorno, oggi quasi ultimo giorno a Barcellona, vediamo le ultime cose che non abbiamo visto finora, perciò ci stiamo spingendo verso la boccherina e quant'altro. Questo è il teatro di Barcellona, bellissimo, dove oggi intraspettano Romeo e Dilucca. Ok, siamo arrivati alla boccheria. Ok, siamo arrivati alla boccheria. La boccheria si trova alla Rambla, nel 1991, ed è più grande nel piastro di tutti i prodotti di Barcellona. Grazie a tutti. 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 e dopo aver visto il parvo della cittadera ci siamo fermati in questo localino a mangiare le famose tapas veramente molto molto buone, non li ho mai mangiate e ne va salata bene allora dopo aver mangiato le famose tapas siamo giunti alla fine del nostro viaggio di quattro giorni a barcelona passiamo in albergo, ci cambiamo, ci troviamo, andiamo prendendo l'aeroplano ci torno a casa a